Benvenuti, questo è un corso sulla disciplina degli scarichi delle acque reflu e delle acque meteoriche in cui si tratteranno gli argomenti principali di interesse dei professionisti del settore. In particolare vedremo quella che è la legislazione di riferimento e di suoi principali contenuti, le competenze in materia di autorizzazione e rilascio delle stesse da parte degli enti, la regolamentazione relativa alle acque meteoriche in Regione Piemonte e faremo infine un cenno sui controlli e sul relativo sistema sanzionatorio. Partiamo da quello che è la normativa di riferimento che è costituita dal Decreto Legislativo numero 152 del 3 aprile 2006, che è la norma in materia ambientale e in particolare il titolo terzo che definisce quelle che sono le misure di difesa del suolo e della lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche. Questo nuovo Decreto Legislativo ha cambiato l'approccio in materia con l'introduzione dell'obiettivo di qualità ambientale per quanto riguarda le particolari funzioni o destinazioni d'uso a cui sono destinati i corpi idrici, nonché per tutti i corpi idrici significativi. L'obiettivo di qualità ambientale concerne non solo la qualità fisico-chimica, ma l'intero ecosistema acquatico sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo. Oltre a questo Decreto Legislativo ci sono in Regione Piemonte una serie di leggi regionali importanti che vengono applicate nella materia. In particolare ricordiamo la legge 13 del 1990, la legge regionale 61 del 2000 e la legge regionale 6 del 2003. Esistono anche una serie di regolamenti regionali attuativi. In particolare ricordiamo il regolamento 1R del 22-2006 delle acque meteoriche, di cui parleremo in seguito. Il regolamento 10R del 29-10-2007 che tratta la riduzione dell'inquinamento dei nitrati da fonte agricola nelle acque sotterranee. Il regolamento numero 7R del 2007 che tratta dei misuratori di portata, sia per quanto concerne i prelievi che gli scarichi che le emissioni sul recettore diversi, in funzione anche della quantità di prelievo e di scarico effettuata. Il regolamento numero 17R del 14-2008 che tratta la profezione dei progetti dei depuratori delle acque refurbane, nonché dei periodi di gestione provvisoria degli stessi, cioè quelli nei momenti in cui si avvia un nuovo depuratore o si fanno degli interventi infrastrutturali sugli depuratori esistenti. E infine il regolamento numero 7R del 2010 in merito ai frontori reali. In particolare tratta quelle che sono le attività di spandimento delle acque di vegetazione e di lavaggio dei frontori reali in agricoltura. Il decreto legislativo 152 ha diverse fanalità. Quella di prevenire e ridurre l'inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni a quelle destinate ad usi particolari, perseguire gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle destinate ad uso potabile, mantenere la capacità naturale di autodoperazione dei corpi idrici e di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, mitigare gli effetti dell'inondazione e dell'essicità, proteggere gli ecosistemi acquatici terrestri e zone umide. Per tale fanalità il sistema mette a disposizione una serie di strumenti, in particolare individua degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, anche in funzione della loro specifica destinazione, individua una tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino ideografico, individua un sistema di adeguamento dei sistemi di fognatura e collegamento di depurazione degli scarichi idrici, disciplina tutti gli scarichi con l'introduzione dell'autorizzazione preventiva, individuando dei valori limiti agli scarichi stessi fissati dalla normativa e comunque dando la possibilità di definire dei valori limiti più restrittivi in caso di raggiungimento di particolari obiettivi di qualità del corpo idrico recettore. Prevede l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e dell'emissione nelle acque sotterranei. Individua anche alcune misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e al ricircolo delle risorse idriche, l'individuazione e l'attuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili, l'individuazione e di attuazione di misure relative alla raccolta e al trattamento delle acque meteoriche. Individua anche alcune misure volte alla graduale riduzione degli scarichi delle sostanze pericolose e per alcune sostanze individuate come pericolose prioritarie la loro eliminazione. Infine individua delle aree che sono particolarmente sensibili in cui la norma stessa prevede specifiche misure di prevenzione, che sono quelle sensibili dall'eutroforizzazione alle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, le aree di salvaguarda e di protezione e altre aree a specifica destinazione. Per poter entrare nel merito della norma iniziamo con le definizioni. La prima e più importante è quella dello scarico, che è qualsiasi emissione effettuata esclusivamente tramite un sistema di condotte stabili che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore, indipendentemente dalla loro natura inquilante e anche se sottopossa a preventivo trattamento di depurazione. È importante definire la linea di demarcazione tra scarico e rifiuto. Questa linea è individuata dalla presenza o meno del collegamento tra la fonte in cui si produce il refluo ed il corpo recettore. Se questa continuità viene interrotta, la normativa definisce questa acqua come rifiuto e quindi l'immissione di questo rifiuto in un sistema di stoccaggio non è più soggetta alla normativa sulle acque reflui, ma alla normativa sui rifiuti e quindi siamo di fronte a un rifiuto allo stato liquido. L'acqua di scarico è costituita da tutte le acque reflui provenienti da uno scarico. A seconda delle provenienze, la norma dà delle definizioni diverse di acque reflui domestiche e di acque reflui, in particolare individua le acque reflui domestiche come acque reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Poi indefinisce delle acque reflui industriali che sono qualsiasi tipo di acque reflui scaricate da edifici o di impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflui domestiche e dalle acque reflui meteoriche di dilavamento. Poi abbiamo le acque reflui urbane che sono le acque reflui domestiche o il miscuglio di acque reflui domestiche e acque reflui industriali ovvero di quelle meteoriche convogliate in reti fognarie, anche se separate. Abbiamo poi le acque reflui assimilabili alle acque reflui domestiche. Queste sono acque reflui che per la loro prevenienza non rientrano nella definizione di acque reflui domestiche ma nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione allo scarico vengono assimilate alle acque reflui domestiche ai sensi per esempio dell'articolo 101 del Decreto Legislativo 152 della legge 13 del 90, della legge 61 del 2000 o del DPR 277 del 2011. In particolare potremmo, per esemplificare la situazione, potremmo indefinire che sono assimilabili alle domestiche le acque provenienti da imprese dedicate esclusivamente alla coltivazione del terreno o allevamento di bestiame che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola. Per esempio le acque di lavaggio di confezionamento della verdura, di mielature, le acque di lavaggio di sala mongitura. Sono acque reflui domestiche assimilabili alle domestiche anche le acque reflui provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura o le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinate all'attività di casificazione degli alpeggi e dei piccoli casifici. Per quanto concente lo scarico in pubblica fognatura, le assimilabilità per le piccole e medie impese sono individuate dal DPR 277 del 2011. Altra definizione importante è l'abitante equivalente che rappresenta il carico organico biotricadrabile avente richiesta biochimica di ossigeno pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. Questa definizione è importante in quanto la normativa vigente per quanto riguarda le acque reflui lo assume come dato importante sia per l'individuazione del sistema di trattamento e per il loro dimensionamento ma anche per individuare i limiti minimi da dare a ogni singolo scarico. Gli scarichi possono avere diverse tipologie di recettore. Vediamo adesso quelli che prevede la norma. Il primo recettore che prevede è quello della fognatura pubblica. Considerate che la fognatura pubblica poi raccoglie i reflui di un determinato agglomerato, lo immette in un impianto di recuperazione che lo tratta e lo scarico in un recettore che può essere un corpo idrico superficiale. Non è comunque ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 del 90, tutti gli scarichi, se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, devono essere collettati in fognatura. Quindi c'è questo obbligo per tutti i domestici che sono nei pressi di una pubblica fognatura. Non possono avere un recettore diverso da quest'ultimo. Altro tipo di recettore sono i corsi d'acqua con adeguata capacità depurativa. In questo caso potremmo avere dei corpi idrici naturali o dei corpi idrici artificiali. In entrambi i casi è sempre necessaria la notorizzazione linea hydraulica da parte del gestore dello stesso. Si è esso demaniale, quindi un corpo idrico naturale, si è esso privato. In caso di canali irrigui, per esempio, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal gestore del canale irriguo. Un'altra tipologia di recapito è il suolo o gli stati superficiali del sottosuolo, che può avvenire attraverso dei pozzi assorbenti o delle trincee di subirrigazione. Considerate che la norma vieta questa tipologia di scarico, però dà delle deroghe e in particolare dice che è ammesso su suolo e negli stati superficiali del sottosuolo solo alcune tipologie di scarico. In particolare sono ammessi gli insediamenti e le installazioni di rici isolati che scarico unicamente acque refre domestiche, sono ammessi gli scarichi degli scaricatori di piena, gli scarichi di acque refre urbane e industriali per i quali si è accettata l'impressibilità tecnica e l'eccessiva onorosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali, gli scarichi provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché gli impianti di lavaggio delle sostanze minerali e anche le acque meteoriche. È comunque vietato scaricare le sostanze pericolose sul suolo e negli stati superficiali del sottosuolo. Altro recettore sono le acque sotterranee. Anche in questo caso la norma vieta questa tipologia di scarico ma dà delle dergo ai commi 2 e ai commi 3, individuando comunque che è vietato lo scarico delle acque meteoriche in acque sotterranee. Il comma 2, in dergo al divieto dello scarico nelle acque sotterranee, prevede che gli scarichi nella stessa falda sono ammessi unicamente nei casi di utilizzi per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniera o di cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, e vi comprese negli impianti di scambio termico. Negli ultimi anni sul territorio si sta sviluppando una nuova tecnologia che prevede il prelievo e lo scarico nella stessa falda di acque prelevate ed utilizzate in appositi scambi termici per la climatizzazione degli edifici di tipo civile e di tipo residenziale. Quest'acqua viene poi restituita nei pozzi, unicamente con una temperatura superiore o inferiore di quella prelevata, a seconda se nell'edificio si sta riscaldando o si sta raffrescando. In questo caso l'autorizzazione prevede un sistema di controlli sia dello scarico ma soprattutto della falda, con un monitoraggio nel tempo, per verificare che non ci siano criticità nella stessa. Altra deroga è individuata dal comma 4 dell'articolo 104, che prevede che può essere autorizzato nella stessa falda e lo scarico autorizzato utilizzato per il lavaggio e la lavorazione degli inerti. In questo caso l'autorizzazione prevede una serie di monitoraggi nel tempo al fine di verificare che questo scarico non comporti un danneggiamento della falda acquifera. Il ricapito degli scarichi delle acque reflue può anche avvenire in pozzi attenuta. Questo sistema, che come già detto precedentemente non costituisce uno scarico ma un accumulo di un reflue che poi deve essere smaltito come rifiuto, è consentito solo quando non è possibile perseguire nessuno degli altri soluzioni, cioè non esiste nessuno degli altri recettori precedentemente indicati. Vediamo adesso l'autorizzazione allo scarico, che ai sensi del 152 è uno strumento di tutela della qualità dell'acqua. In particolare l'autorizzazione è obbligatoria per tutti gli scarichi di acque reflue, indipendentemente dal coppo idrico recettore, dalla tipologia delle acque reflue e dalla qualità delle stesse. In dereco al tale principio vanno solo gli scarichi domestici in pubblica fognatura. Infatti in questo caso questi sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti del gestore e hanno bisogno unicamente dell'autorizzazione all'allaccio, ma non l'autorizzazione allo scarico. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. Nel caso in cui più stabilimenti conferiscono tramite una medesima condotta le acque reflue provenienti dalla loro attività in un corpo idrico recettore, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finato o dal consorzio appositamente costruito, fermo restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività in caso di violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 152. Le competenze. Vediamo che le competenze in maniera di gestione e controllo e rilascio dell'autorizzazione allo scarico variano a seconda del recettore e dell'attività da cui si origina lo scarico. In particolare in Regione Piemonte sono di interesse comunale tutti gli scarichi ricapitanti nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione e dallo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale e indipendentemente dalla natura degli scarichi. Invece sono di interesse provinciale della città metropolitana tutti gli scarichi che ricapitano nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale e sono di interesse provinciale anche tutti gli scarichi delle pubbliche fognature e gli scarichi in acque sotterranee. Raccupando tutto in un'unica slide aggiungerei che tutti gli scarichi in pubblica fognatura diversi dai domestici sono invece autorizzati dal gestore del servizio idrico diversi dai domestici perché come abbiamo detto precedentemente questi non sono oggetto di autorizzazione. Queste competenze in Regione Piemonte vengono individuate dalla Regge regionale 48 del 1993 e dalla Regge 44 del 2000. Nell'autorizzazione, anzi nel provvedimento finale di autorizzazione vengono inserite specifiche prescrizioni in funzione della tipologia dello scarico degli obiettivi di qualità assegnati al corpo recettore. In particolare vengono individuate i valori limiti che possono essere prescritti anche più restrittivi di quelli previsti dalla normativa e non possono comunque essere raggiunti attraverso la diluizione dello scarico con acque prelevate allo scopo. Viene imposto anche un regolare mantenimento dei sistemi di depurazione per garantire l'efficienza nel tempo e anche in alcuni casi un regime di autocontrollo a cura del tireo tale titolare dello scarico. Deve essere comunque previsto un punto di campionamento del refluo immediatamente a monte del corpo recettore con la realizzazione di un apposito pozzetto di campionamento. La norma prevede tutta una serie di tabelle dove vengono individuati i limiti minimi che lo scarico deve rispettare. In particolare alcune tabelle sono individuate nel legato 5 parte terza del 152 mentre per gli scarichi di acque refluo urbane inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti per gli scarichi domestici e assimilabili a domestici vengono individuati in Regione Piemonte dalla legge regionale 13 del 1990 e dalla legge 61 del 2000. In queste slide vado ad indicare quelli che sono i limiti principali degli scarichi individuati a seconda della tipologia di scarico in questo caso sono le acque refluo urbane che vedremo sono differenti in funzione della potenzialità del depuratore ma anche in funzione della tipologia di corpo idrico recettore. Stessa cosa per gli scarichi di acque refluo industriali stessa cosa anche per gli scarichi di acque refluo domestiche dove anche in questo caso la diversità dei limiti è in funzione del recettore dello scarico. Per quanto concerne lo scarico in fognatura questi sono soggetti alle norme tecniche alle prescrizioni regolamentari e avrò i limiti previsti dal gestore del servizio idrico che deve tener conto delle caratteristiche finali dell'impianto di depurazione che deve garantire comunque la tutela del corpo idrico recettore. non possono comunque essere date d'eroghe ad alcuni parametri ed in particolare alle sostanze pericolose previste dalla tabella 3A e dalla tabella 5 dell'allegato 5. Deve essere comunque previsto un punto di misurazione che deve avvenire immediatamente a monte del recapito e deve essere accessibile in qualsiasi momento dall'autorità di controllo che può fare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. In genere deve essere realizzato un pozzetto di campionamento che deve avere una struttura simile a quello nella slide e il gestore deve comunque comunicare nel tempo tutte le eventuali modifiche delle caratteristiche sia del sistema di scarico ma anche del sistema di trattamento delle acque reflue prima dell'immissione del corpo idrico recettore. L'autorità competente può comunque richiedere che gli scarichi che contengono alcune delle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 individuate come pericolose subiscono un trattamento particolare. La norma prevede che comunque non è consentito diluire con acqua di raffreddamento e di lavaggio o con acque prelevate esclusivamente allo scopo e può anche prevedere che in sede di autorizzazione vengano separati gli scarichi con le sostanze pericolose e quello senza le sostanze pericolose. Un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. Lo scarico può essere comunque provvisoriamente tenuto attivo nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione allo scarico se la stessa è tempestivamente presentata. Questo non è possibile nel caso in cui nello scarico ci sono delle sostanze pericolose perché in tal caso l'autorizzazione allo scarico deve essere comunque rilasciata entro sei mesi dalla scadenza della precedente autorizzazione. In alcune tipologie di scarichi la Regione Piemonte, in particolare con la legge 6 del 2000 e 3 ha previsto che possono essere tacitamente rinnovate in particolare ha previsto che gli scarichi di acqua e refre domestiche l'autorizzazione allo scarico seppur ha una scadenza viene tacitamente rinnovata alla scadenza nel caso in cui non ci siano delle modifiche quali quantitative dello scarico. In seguito alla semplificazione e al riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive il cosiddetto SUAP con il DPR 13 marzo 2013 numero 59 è stata istituita l'autorizzazione unica ambientale l'AUA che è destinata a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese e da tutti gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Infatti questa autorizzazione rilasciata su istanza di parte incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore che prima l'impresa invece doveva chiedere singolarmente ma non sposta affatto le competenze dei relativi ai singoli aspetti ambientali. Le autorizzazioni che sono ricomprese nell'AUA sono l'autorizzazione agli scarichi, la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli influenti di allevamento, delle acque di vegetazione, dei frentoleari e delle acque refloproviamenti delle aziende anche se in Regione Piemonte questa comunicazione non è ricompresa nell'AUA in quanto segue la disciplina del regolamento numero 10R del 2007 che prevede che tramite Agrife Unica del Piemonte l'azienda possa fare le comunicazioni con le tempistiche e le modalità previste dal citato regolamento. Sono ricomprese invece le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale, la comunicazione o il nulla osta in materia di impatto acustico, l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione e agricoltura e le comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata delle operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi e il recupero dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi. L'AUA può essere definita come un procedimento di procedimenti in quanto riassume in un unico atto diverse autorizzazioni. L'AUA ricomprende quindi titoli che possono essere di competenza della città metropolitana o della provincia, del comune, ma anche del servizio idrico integrato. La domanda deve essere presentata allo sportello unico attraverso una specifica piattaforma online in la maggior parte degli sportelli unici in questo momento si avvale di sistema Piemonte. Questa piattaforma permette la compilazione della domanda, di allegare documenti tecnici e di allegare le eventuali ricevute degli oneri istruttori e di apporre la firma digitale. Lo sportello unico trasmette la domanda in biotelematica all'autorità competente, che è la città metropolitana o la provincia, che, verificando i titoli richiesti, coinvolge gli enti e gli uffici per il rilascio dei relativi pariri autorizzativi e, nel caso in cui è previsto dalla norma, convoca eventuali conferenze di servizi. Lo sportello unico rappresenta l'unico punto di contatto con l'amministrazione per il titolare dell'attività. Quindi la città metropolitana o la provincia, se deve trasmettere comunicazione all'istante, lo fa tramite lo sportello unico. L'autorità competente adotta quindi l'agua, inserendo quale parte integrante tutti i vari pareri degli enti e degli uffici coinvolti e la, inoltre, ha lo sportello unico, che rilascia l'agua per una durata di 15 anni e la notifica quindi al titolare dell'attività. Nel caso di scarico di acqua e refrio di competenza comunale, in caso di ristorazione o di un albergo, l'impresa presenta l'istanza di agua allo sportello unico tramite l'apposita piattaforma e sarà la città metropolitana o provincia che, quale autorità competente, richiederà il parere autorizzativo al Comune. Quindi la città metropolitana adotterà il provvedimento inserendo nello stesso le prescrizioni che sono state date dal Comune competente. In particolare potremmo dire quindi che il titolare di lo scarico di un'attività residenziale deve presentare istanza ai sensi del 152 al Comune, il quale rilascerà un'autorizzazione di durata 4 anni che, in considerazione che trattasi di uno scarico domestico, sarà tacitamente rinnovato ogni 4 anni ai sensi della legge 6 del 2000. Mentre, nel caso di un'attività produttiva, artigianale e commerciale, l'istanza deve essere presentata ai sensi del DPR 59 del 2013 allo sportello unico tramite la piattaforma e dovrà includere anche eventuali altri titoli previsti dal DPR 59 e sarà la città metropolitana che adotterà l'AUA e che sarà rilasciata poi dal suo a poco alla durata di 15 anni. L'autorità competente è comunque autorizzata a effettuare le ispezioni e i controlli dei prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei limiti di emissioni ma anche di tutte le altre prescrizioni previste nell'autorizzazione e il titolare è tenuto comunque a consentire l'accesso ai luoghi dove si origina lo scarico. Nel caso in cui vengono accertate delle mancate osservanze alle prescrizioni autorizzative, indipendentemente dalle norme sanzionatorie, l'autorità competente provvede ad effettuare una diffida stabilente un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze può effettuare una diffida e la contestuale sospensione dell'autorizzazione per un determinato tempo nel caso si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente o può anche prevedere la revoca dell'autorizzazione allo scarico in caso di mancato documento alle prescrizioni imposte dalla diffida o in caso di reiterato violazione che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. Adesso faremo un accenno sulle acque meteoriche considerando che l'articolo 113 del 152 prevede che le regioni possano disciplinare e attuare dei specifichi regolamenti in merito a forme di controllo degli scarichi delle acque meteoriche provenienti da reti fognari separate e in tutti i casi in cui le emissioni di acque meteoriche di dilavimento possono essere sottoposte a particolari prescrizioni anche l'eventuale autorizzazione allo scarico. In Regione Piemonte è stato emanato il decreto del Presidente della Giunta regionale numero 20 del 20 febbraio 2006 numero 1R successivamente modificato dal 7R. Questo regolamento ha individuato alcune misure a cui devono essere sottoposte le acque meteoriche non definendolo uno scarico e pertanto le acque meteoriche non sono soggette ad autorizzazione preventiva. In particolare questo regolamento ha previsto che per le attività che sono previste nell'articolo 7 cioè le attività soggette ad aia autorizzazione integrata ambientale gli impianti stradali e lacuali di distribuzione carburante gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali e di depositi per uso commerciale delle stesse sostanze i centri di raccolta depositi e trattamento dei veicoli fuori d'uso i depositi degli impianti soggetti ad autorizzazione e comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione di rifiuti infine anche i centri idermodali previsti dai piani territoriali e regionali vadano a predisporre un piano di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che poi deve essere approvata dall'autorità competente individuando anche delle prescrizioni specifiche al fine di tutelare il corpo idrico recettore in cui vengono immesse le acque meteoriche l'autorità competente è uguale a quella che autorizza lo scarico quindi è il comune nel caso di attività commerciale per esempio i distributori di carburanti in cui non si effettua lavaggio oppure officina ma si effettua unicamente la vendita di carburanti il cui ricapito delle acque di prima pioggia sia diverso dalla pubblica fognatura in tutti gli altri casi la competenza è in capo alla città metropolitana o alle province oppure nel caso in cui l'acqua di prima pioggia venga immessa in pubblica fognatura in questo caso la competenza per l'approvazione dei piani è in capo al gestore del servizio idrico integrato quindi il DPGR numero 1R del 2006 non prevede una vera e propria autorizzazione non prevede dei limiti di accettabilità delle emissioni delle acque meteoriche nel corpo recettore ma prevede la predisposizione e l'approvazione di un piano che deve prevedere tutta una serie di misure volte alla riduzione dell'impatto di queste acque meteoriche sul corpo recettore queste misure saranno logicamente in funzione della tipologia di attività svolta sulla superficie esterna e della possibilità di inquinamento che si possa avere nelle acque meteoriche in segue al dilavamento delle attività esterne per le acque meteoriche provenienti da attività non individuate nell'articolo 7 il regolamento prevede che nel caso ci siano opere o interventi soggetti a procedure di via queste siano tenute al rispetto delle eventuali prescrizioni indicate nei procedimenti di via nel caso in cui le amministrazioni comunali abbiano approvate dei regalamenti edilizi devono rispettare le eventuali misure specifiche che possono essere indicate dall'amministrazione comunale nei casi di attività esclusi dall'articolo 7 nei casi non ricadanti in tutte le fattispecie innanzi indicate le acque meteoriche non sono soggette ad alcun vincolo o prescrizione al fila della prevenzione dei rischi ambientali ma nel caso in cui queste per esempio vengono immesse in corpidice superficiale saranno oggette di autorizzazione di natura idraulica da parte del gestore del corpo idrico recettore farei adesso un cenno su quelle che sono le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 152 che prevede sanzioni amministrative o penali nei casi di mancanza di autorizzazione allo scarico di mantenimento dello scarico dopo che l'autorizzazione si è stata sospesa o revocata di superamento dei valori limiti di emissioni stabiliti dalla norma del non rispetto delle prescrizioni autorizzative di mancata consenso all'accesso degli insegnamenti o mancata presentamento dei piani di acqua meteorica o il mancato rispetto nelle prescrizioni di approvazione degli stessi in particolare potremmo dire che sono soggette ai sensi dell'articolo 133 alla sanzione amministrativa i casi indicati nella slide e sono invece soggetti a sanzione penale ai sensi dell'articolo 137 quelli individuati in quest'altra slide avrei concluso il mio breve intervento sulla disciplina degli scarichi delle acque refe e delle acque meteoriche e ringrazio per l'attenzione e ringrazio per l'attenzione e ringrazio per l'attenzione e ringrazio per l'attenzione ringrazio per l'attenzione